È stabile in Campania la curva epidemiologica, ma in rialzo il tasso di incidenza. Sono 385 i nuovi positivi al Covid-19, così come reso noto dall'Unità di Crisi regionale. I tamponi processati sono stati 9.819, con il tasso di incidenza al 3,9%, l'altro giorno era al 3%, sono 102 le persone con sintomi, mentre gli asintomatici sono 283. Sono 874 le guarigioni nelle ultime ore, un solo decesso nelle ultime 48 ore. Continua a scendere il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 61 su una disponibilità di 656, anche quelli occupati nei reparti di degenza sono in calo. Sono 733. In provincia di Salerno sono tanti comuni che non riportano nuovi contagi. Zero tamponi positivi a Nocera Superiore, Pagani, Sarno, San Marsano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Tramonti, Castel San Giorgio, Roccapimonte, Bracigliano, Mercato San Severino, Fisciano e Baronissi. A riportare nuovi positivi sono Salerno e Nocera Inferiore con 4 casi ciascuna, poi due a Scafati e Angri, uno a Cava dei Tirreni e Corbara. Sono più di 10.000 le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini campani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l'esame di maturità nella scuola pubblica, paritaria e privata. La piattaforma, aperta nella serata di sabato, resterà ancora attiva per ulteriori adesioni. Le vaccinazioni dovrebbero partire questa settimana. Per i 17 anni il vaccino indicato è il Pfizer, per tutti gli altri sarà Johnson & Johnson.